Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. SPS Radio App. E per lo sport, nel rugby, il New South Wales torna a vincere lo State of Origin dopo tre anni. Benvenuti alla giornata di oggi, giovedì 18 luglio, con voi Massimiliano Gugole. Il governo federale ha nominato Murray Furlong, direttore generale della Fair Work Commission, come amministratore indipendente del sindacato CFMEU. Il primo ministro Anthony Albanese afferma che l'amministratore indipendente avrà il potere di ripulire il sindacato, dopo le accuse di legami con la criminalità organizzata. Secondo il leader dell'opposizione, Peter Dutton, il governo ha dato la risposta più debole possibile e spinge per cancellare la registrazione del sindacato. Il ministro del lavoro, Tony Burke, ha dichiarato che introdurrà ulteriori leggi, se necessarie, per le azioni di Furlong, confermando che non è sua intenzione cancellare la registrazione del sindacato, poiché, dice il ministro, sarebbe un regalo ai peggiori elementi. Il primo ministro albanese ha difeso la risposta del governo, negando che il sindacato avesse umiliato il partito laborista e sottolineando come nel 2019 avesse fatto rimuovere dal partito laborista John Setka, il leader dimissionario della sezione del Victoria, in cui una recente inchiesta ha rivelato possibili comportamenti criminali. Albanese ha poi aggiunto che proporrà la sospensione del CFMEU dal partito laborista federale nei prossimi giorni. L'Australian Council of Trade Unions, l'ACTU, ha sospeso le divisioni generali del settore della costruzione nel sindacato CFMEU, finché questo non potrà dimostrare di funzionare correttamente ed essere libero da elementi criminali. La segretaria dell'ACTU, Sally McManus, sostiene che il gruppo ha una politica di tolleranza zero per corruzione, attività criminali e violenza. Un aggiornamento ora dal Medio Oriente con il fronte tra Israele e Libano è sempre più caldo. Il leader del gruppo militante Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che il gruppo continuerà i suoi attacchi contro Israele fino alla fine della guerra a Gaza. Hezbollah è un alleato di Hamas ed ha lanciato attacchi contro Israele dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Da allora gli attacchi israeliani sul Libano hanno ucciso oltre 450 persone, per lo più combattenti di Hezbollah, ma anche 80 civili. Nasrallah ha promesso che il gruppo attaccherà nuove città e villaggi israeliani se l'esercito israeliano continuerà ad attaccare obiettivi civili in Libano. E il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant, sostiene che il suo paese è disposto a raggiungere un accordo con Hezbollah se ritirerà i suoi combattenti dal confine. Ma ha avvertito il gruppo militante libanese che Israele potrebbe lanciare una nuova offensiva in un secondo. Gallant ha poi specificato che questo potrebbe avvenire indipendentemente dalla situazione a Gaza. E negli Stati Uniti ora, dove continua la pressione affinché Joe Biden faccia un passo indietro dalla sua candidatura per le presidenziali di novembre, e nelle ultime ore a questo coro si è giunta la voce del rappresentante democratico della California, Adam Schiff. Il presidente Biden intanto è tornato a fare campagna elettorale e ha chiesto di vetare l'arma usata nel tentato assassino di Donald Trump. Il presidente Biden invoca da tempo un divieto sui fucili d'assalto e nel 1994 ne aveva approvato uno, poi scaduto nel 2004. Diciamo che Biden ha ripreso la sua campagna elettorale e un'intervista ieri a Bad News ha dichiarato che se i medici gli comunicassero problemi di salute che potrebbero influenzare la sua attività da presidente potrebbe rivalutare la sua candidatura. If I had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. But I made a serious mistake in the whole debate. And look, when I originally ran, you may remember it, I said I was going to be a transitional candidate. And I thought that I'd be able to move from this, just pass it on to someone else. But I didn't anticipate things getting so, so, so divided. And quite frankly, I think the only thing age brings a little bit of wisdom. And I think I've demonstrated that I know how to get things done for the country. In spite of the fact that we couldn't get it done. But there's more to do and I'm reluctant to walk away from that. E alla Convention Nazionale Repubblicana di Milwaukee ha parlato il candidato vice-presidente di Donald Trump, J.D. Vance, che ha elogiato l'ex-presidente per le sue azioni dopo essere stato colpito durante il comizio elettorale in Pennsylvania. E ora in Victoria, che ha iniziato il suo percorso per diventare il primo stato in Australia che firmerà un trattato con gli aborigeni australiani. La First People's Assembly of Victoria ha ufficialmente avviato le negoziazioni del trattato con il governo statale nella giornata di ieri, con una notifica ufficiale registrata nel database delle negoziazioni della Treaty Authority. Il co-presidente dell'Assemblea, Ruben Berg, afferma che l'obiettivo è quello di fornire soluzioni a lungo termine per gli australiani delle First Nations, il che, secondo lui, migliorerà anche i rapporti tra aborigeni e non aborigeni australiani. A Bangkok, in Thailandia, la polizia sta indagando sulla morte di sei persone trovate nella stanza di un hotel di lusso della città e sostiene ora che un membro del gruppo avrebbe avvelenato se stesso e gli altri usando del cianuro. I corpi sono stati scoperti in una suite del Grand Hyatt Air One Hotel nel centro turistico della città e le foto pubblicate dalla polizia mostrano una scena del crimine senza sangue, con corpi sparsi per la stanza, con piatti di cibo thailandese intatto, delle fiaschette e delle tazze. Il vice capo della polizia di Bangkok, Nopasin Ponsawat, sostiene che il movente del crimine è legato a una disputa commerciale del valore di diversi milioni di baht. In una inchiesta in collaborazione tra il programma di SBS, The Feed e The Guardian Australia sono stati ottenuti dei filmati che mostrano bambini nel Queensland messi in celle di isolamento in struttura di polizia chiamata Watch House. Dei bambini che finiscono nelle Watch House, alcuni vengono tratenuti talvolta per settimane, una situazione che alcuni ritengono sia contraria ai diritti umani. La percentuale di minori appartenenti alle First Nations nel sistema giudiziario minorile del Queensland è molto elevata. Tim Spall è un uomo ghica, è uno psicologo che ha lavorato con i giovani indigeni a Brisbane per oltre 20 anni e crede che l'intero sistema debba cambiare per affrontare i problemi di fondo che i bambini si trovano davanti. Il mio argomento è che questa conseguenza deve portare a migliori risultati, per i bambini. Se non facciamo questo, stiamo freddendo questi bambini in un stesso sistema e poi vengono fuori e committano le stesse o 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 le stesse. Mercato di cambi. Il dollaro australiano oggi vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, nel rugby, dopo tre anni, il New South Wales torna a vincere la State of Origins confingendo il Queensland per 14 a 4 in un incontro teso al Suncorp Stadium di Brisbane. I Maroons erano in vantaggio 4 a 2 in una partita dominata dalla difesa prima che Jerome Luae preparasse Bradman Best per una meta al 65esimo minuto che ha portato i Blues in vantaggio. Per il ciclismo invece al Tour de France, l'equadoriano Richard Carapaz ha vinto la diciassettesima tappa da Saint-Paul-Trois-Chateau a Superdévoluie. Nessun cenno di cedimento da parte di Tadej Pogacar che continua a mantenere salda la sua maglia gialla. E concludiamo il giornale radio di oggi con le previsioni del tempo. Piove a Perth, 18 gradi la massima. Nuvoloso ad Adelaide, 14 gradi. Pioggia anche a Melbourne, 12 gradi la massima. E possibili piogge a Hobart, 11 gradi. A Canberra, parzialmente nuvoloso e 11 gradi di massima. Parzialmente nuvoloso anche a Sydney, 19 gradi. A Brisbane invece una giornata prevalentemente estrena con 20 gradi. A Cairns, splendor al sole e ci saranno 24 gradi. Sole anche a Darwin dove si toccheranno i 28 gradi. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook. Grazie a tutti.